pasticcio si si a venezia si chiamano pasticcio si mette macarone si mette il macarone si mette il macarone si mette il pasticcio pasticcio è? o no Aldo? si anche il pasticcio per casa tua lasagna il pasticcio vedi questa cede un poco no questo deve fare freddo così poi si lui lo vuole mangiare domani ma lo facciamo niente qua domani